Per rendere più rapido l'accesso ai servizi digitali della Regione e di tutta la pubblica amministrazione, oltre che alle banche dati di interesse dei cittadini, la Regione Toscana ha rinnovato il portale Open Toscana, aggiungendo anche una nuova app già scaricabile per ricevere notifiche e accedere direttamente da smartphone a un ampio ventaglio di servizi, come il fascicolo sanitario e elettronico e le prenotazioni di visite mediche tramite CUP, i pagamenti dei servizi più comuni, come il bollo auto, la giustizia digitale, i bandi di finanziamento e le pagine di iniziative della Regione, come Collabora Toscana o Toscana Plastic Free, solo per citarne alcuni. Uno stimolo a radicare e rendere abitudine quotidiana l'accesso digitale alla pubblica amministrazione, anche per tanti toscani che sono stati spinti a sperimentare magari per la prima volta questi servizi durante l'emergenza Covid. In questa piattaforma noi accogliamo quindi non solo la Regione ma anche tutti quei comuni, le unioni dei comuni, quegli enti della pubblica amministrazione toscana che hanno dei servizi online, quindi è più immediato per un toscano dire serve qualcosa per la pubblica amministrazione. Vado su Open Toscana e 99 su 100 lo trovo. Lo trovo come servizio ma lo trovo anche come opportunità. Tramite Open Toscana si può accedere ai cosiddetti Open Data, cioè agli oltre 4.007 di dati aperti dalla pubblica amministrazione toscana, tra questi anche i dati aggiornati sull'epidemia di Covid elaborati dall'Agenzia Regionale di Sanità, quelli sul traffico e quelli sulla mobilità. In tre anni gli accessi a Open Toscana sono triplicati, passando da poco meno di 200.000 a oltre 550.000 nel 2019. Continua l'opera di ricostruzione e valorizzazione dei Monti Pisani dopo il terribile incendio di origine dolosa che nel settembre del 2018 distrusse più di 1.000 ettari di bosco e quasi 150 ettari di coltivazioni agricole, uno dei più grandi disastri ambientali della storia della Toscana. La Regione ha messo a punto un protocollo d'intesa con la società Olt e la comunità del Bosco del Monte Pisano per mettere in atto una serie di interventi destinati ai soprassuoli danneggiati dal fuoco. Una volta spento il rogo, la Regione e gli altri enti locali realizzarono in tempi record i lavori di messa in sicurezza e anti dissesto idrogeologico. Ora vogliamo promuovere un progetto, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste Marco Nemaschi, per il ripristino della vegetazione e la valorizzazione turistica delle aree percorse dall'incendio. Il progetto riguarda repubbliche private situate in località Monte Grande, nel comune di Vicopisano e in località La Croce e nel comune di Calci, che rientrano nella disponibilità della comunità del Bosco. Spetterà alla Regione monitorare i risultati del progetto per valutare se possa rappresentare un modello virtuoso anche per altre realtà regionali. I cittadini che per esigenze private, ad esempio coloro che si spostano per lavoro all'estero, abbiano la necessità di sottoporsi al tampone per la ricerca del coronavirus, il cosiddetto test molecolare, l'Orempo in Toscana potranno farlo anche nelle strutture del servizio pubblico, dietro pagamento ed una tariffa regionale. Lo ha deciso la Regione, uniformando anche il percorso per sottoporsi al test dal prelievo alla rifertazione. I tamponi effettuati nelle strutture pubbliche saranno poi analizzati nei laboratori regionali di riferimento. Per il prelievo la Regione ha stabilito che il cittadino pagherà una tariffa di 4 euro. Per l'analisi del tampone, che è una prestazione al di fuori dei livelli essenziali di assistenza, ogni azienda sanitaria fisserà una tariffa che però non dovrà superare gli 80 euro. I tamponi si potranno continuare a fare anche nei laboratori privati convenzionati con la Regione, ma in questo caso non è stata fissata una tariffa massima. Tutti i laboratori devono essere collegati alle piattaforme informatiche regionali, in modo tale che, in caso di diagnosi di positività al Covid, si possano ricercare i contatti, inserire il caso nella piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità, notificare al paziente l'obbligo della quarantena, offrire l'albergo sanitario ed eseguire gli accertamenti anche sui familiari e i conviventi. Più di 10.000 cittadini si sono rivolti al Corecom nel 2019 per risolvere controversie con gli operatori telefonici. Nell'85% dei casi l'utente ha ricevuto un parere favorevole alla propria istanza e questo ha permesso di restituire circa 4 milioni di euro ai cittadini toscani. È questo uno degli aspetti principali del lavoro fatto dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana nel 2019. Il consuntivo è stato presentato in Consiglio regionale. Fra le altre attività svolte ci sono iniziative per ridurre il divario digitale tra le varie zone della Toscana e l'educazione ai rischi del web per i minori. Abbiamo fatto un lavoro molto intenso sulle questioni legate alla educazione ai minori assieme a Polizia Postale, all'Ufficio regionale scolastico, all'Istituto degli Innocenti per cercare di formare giovani, i genitori e soprattutto gli insegnanti su tutto quello che sono le insidie e le opportunità legate alla rete, agli smartphone e a tutto quello che è collegato e che soprattutto anche in questo periodo di coronavirus sono stati fortemente significativi. A poche settimane dalle elezioni regionali, Brogi ha indicato due obiettivi per la prossima legislatura. Aggiornare la legge sulla par condicio, risalente a 2000 e che non legifera sull'uso dei social network e quella che regola i corecom stessi, risalente al 2002. Studenti, genitori, insegnanti, personale ATA, sindacati, esponenti dell'associazionismo e della politica hanno sfilato per le strade del Centro Storico di Firenze e di una sessantina di altre città italiane per la manifestazione nazionale convocata dal Comitato Priorità alla Scuola per chiedere al Governo un maggior impegno per il riavvio a settembre dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole. Secondo i promotori della protesta, le linee guide presentate dalla Ministra all'Istruzione Lucia Azzolina non hanno dato sufficienti garanzie per una riapertura in presenza senza riduzione di orario, in sicurezza e continuità. La scuola è chiusa, è stata chiusa per tre mesi. La scuola non si sa quando riaprirà e come. Il come è ipotizzato ed è un come che non ci piace. Troviamo inaccettabile e disumano per i bambini, per i ragazzi e anche per noi genitori il fatto che arrivati a fine giugno non sappiamo se a settembre la scuola riaprirà. Sono linee guida molto generali che, come immaginavamo, scaricano tutta quanta la responsabilità di un'eventuale riapertura a settembre su chi la scuola la dirige, facendo appello al principio dell'autonomia scolastica e quindi al principio della disuguaglianza. Il comitato chiede quindi il ritiro delle linee guida governative, definite imbarazzanti e inutili, annunciando che la mobilitazione continuerà fino a quando non saranno revocate. L'ospedale di Porto Ferraio sull'Isola d'Elba è pronto per affrontare la stagione estiva. Sono infatti terminati i lavori per il rinnovo del pronto soccorso inaugurato alla presenza dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Il nuovo pronto soccorso a 950 metri quadri è provvisto di attrezzature cliniche al top di gamma e dotato di un'area di isolamento con zona filtro, adatta a pazienti portatori di patologie infettive. L'investimento finanziato dalla regione toscana è stato di oltre un milione di euro. Finalmente inauguriamo il nuovo pronto soccorso che è sostanzialmente quadruplicato. Erano 250 metri quadrati, sono sostanzialmente mille. Abbiamo una nuova camera iperbarica assolutamente moderna, capace di ospitare fino a 6 persone, capace di ospitare una barella dotata di tutti i meccanismi di sicurezza e di qualità che sono necessari. Quindi un momento di grande soddisfazione per il miglioramento dell'opportunità di salute per l'isola. Per la nuova camera iperbarica sono stati formati medici e infermieri ed è in corso la selezione per ulteriori 15 tecnici. L'assessore Saccardi ha ricordato che la camera iperbarica e il nuovo pronto soccorso sono solo una parte degli interventi sull'isola d'Elba. L'emergenza Covid ci ha consentito di assumere ancora 20 persone, 15 infermieri e 5 os per andare a rafforzare appunto il personale qua e poi bisognerà studiare qualcosa anche per il personale medico perché abbiamo anche dei pensionamenti eccellenti e quindi si dovrà provare a garantire comunque anche la qualità e la presenza di ulteriore personale medico in questo presidio ospedaliero. Alla fine della cerimonia di inaugurazione è stato donato un fiore all'infermiera Ingrid Lange per ringraziarla dell'impegno che da sempre mette nel suo lavoro.